Michiano Reggiano presenta i Briganti Mattocchioni Se abbiamo seguito la rotta giusta siamo su un'isola, cerchiamo nella pagoda Noi non siamo naviganti, siamo solo dei briganti Oh che genga, non so chi mi tenga Cercalo tu Yahoo! Si cerco il tesoro e volo con la liana, io sbatto contro una pagoda indiana Perciò mio capitano, noi sosteniamo che il posto questo non è Cercalo tu Se entro in questo posto e attento guardo in giro, finisco sopra il letto di un facchiero Perciò mio capitano, noi sosteniamo che il posto questo non è Oh capitano, capitano, noi ce l'abbiamo messa tutta Ma forse abbiamo sbagliato rotta, un'isola questa non è Oh che genga, non so chi mi tenga Cercalo tu Si cerco di entrare nel monumento indiano, c'è un gobra che mi morde con la mano Perciò mio capitano, noi sosteniamo che il posto questo non è Basta, basta col cantare, riprendiamo a navigare Non era lì che fanno mio caro capitano, il vero parmigiano reggiano C'è un'isola soltanto che dà questa bontà, l'isola del tesoro è qua Noi chiamiamo Isola del Tesoro la zona di produzione del parmigiano reggiano Ora come sette secoli fa, il parmigiano reggiano si produce solo qui Nelle province di Parma, Reggio, Modena, Bologna, Sinistra, Reno e Mantua, Destra, Po Il marchio parmigiano reggiano ne attesta la genuinità e la denominazione di origine Parmigiano reggiano, il formaggio da tavola così unico al mondo Parmigiano reggiano reggiano. Grazie per aver guardato il nostro corso